Se ne era parlato già all'inizio dell'anno, poi tutto era stato bloccato a causa dell'epidemia. Ora finalmente è pronto il bando per nominare la capitale italiana del libro, promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Il titolo verrà conferito nel 2021 e prevede per la città vincitrice una serie di iniziative che si terranno nell'arco dell'anno intero e che verranno finanziate con 500.000 euro. Già a febbraio Cesena aveva fatto capire che sarebbe stata della partita, aveva messo in vetrina la sua gemma più preziosa, la Biblioteca Malatestiana, memoria del mondo dell'UNESCO. Tutto era stato però messo in ghiaccio dal lockdown. Dopo i primi tre mesi di chiusura totale la biblioteca ha iniziato a ripristinare i servizi a maggio, prima con un semplice sportello esterno di ritiro e consegna libri, poi con i prestiti su prenotazione. Piano piano si sta tornando alla normalità. Adesso non è più obbligatoria la prenotazione del prestito, anche se è vivamente consigliata, tanto che è cresciuto questo servizio del 40% rispetto all'anno scorso. Sono aperte anche le aule studio, abbiamo 83 posti. Consigliamo la prenotazione ma in caso di disponibilità si può venire direttamente. Gli orari di ingresso sono divisi in due turni. Ogni giorno dalle 13 alle 15 la Biblioteca viene chiusa per igienizzare gli ambienti. Altre riaperture sono previste tra poche settimane. Contiamo da primi di ottobre di ampliare gli spazi dello scaffale aperto ripristinando completamente la sezione della Mediateca. Tra circa un mese la scadenza del bando ministeriale mentre la nomina della città dovrebbe arrivare a fine novembre. La presentazione scade a metà ottobre quindi stiamo lavorando alacremente per riuscire a presentare una candidatura interessante.